Il fatto con le province di censimento di teleassociazione di comunicazione sociale secondo quello che prevede la nostra rete 34. I dati sono stati regalati dalle schede che le associazioni hanno prodotto in risposta alla rilevazione che a partita nel settembre del 2010 si è conclusa in appena 2011. Il rapporto è stato creato internamente e ha avuto per aggetto le 2650 associazioni che hanno risposto sulle 3.251 interessate. Hanno risposto in maniera abbastanza omogenea in tutte le province grazie anche alla collaborazione e all'attività decisa dei funzionari delle province che hanno curato la rilevazione. Una percentuale di risposta è intorno all'80% come vedete che è leggermente più bassa rispetto al volontariato dato che non si deve sconagliare perché in realtà questo ci ha permesso di leggere le associazioni che non rispondevano che nei tempi degli anni hanno cessato la rilevazione. Infatti se risolviamo questi dati con quelli delle cancellate abbiamo una rilevazione effettiva delle associazioni che arriva a generare il 100% delle associazioni. grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti